8 miliardi di persone, un sistema agroalimentare. Conflitti armati, cambiamento climatico, rallentamenti e recessione, disuguaglianze, rincaro dei prodotti alimentari. Impediscono il progresso a molti, limitando il progresso per tutti noi. Il problema di uno solo si ripercuote su molti. La sostenibilità inizia dalle pari opportunità. Pari opportunità per agricoltori, produttori, consumatori e rispetto per l'ambiente. Costruiamo un mondo con più cibo di qualità e che sia sicuro, nutriente e conveniente per tutti. Non lasciare nessuno indietro.